Come fa, figlio, ma non ci senti da mangiare. Oh, mi ha fatto male. Ma non mi ha detto, ma non mi ha detto, ma non mi ha detto. Che si fa così. E' un po' di calma. Ora, amiche, ora è qui con il tuo pesce, per di nonno. Allora, ecco, così. Ma qui? Un po' di calma. Sì, tu, chissà. Ah. I capelli di... Pa, pa, pa. Mario, va, va. C'è un po' di mezzo? E' un po' di calma. E' un po' di calma. Amiche, non mi ha appassato, eh. E' un po' di calma. E' un po' di calma. Amiche. Oh, non vi permettete. Eh, non mi ha appassato. No! Oh, guarda il mare che l'hai partita con il palacchetto che si, ha spuntato qui. Oh, oh, oh! Scamare... Ciao bello. Ma perché ha fatto questa luce? Allora, perché è questa acqua? Hai piaciuto il sofredd! Ah, non muoverà la luce. Giacomo? Sta finendo spazio oggi. Dove spazio? Sago come una.